Raccontare la fisica è una cosa complicata, specialmente se si decide di farlo rinunciando alle equazioni ma cercando al contempo di conservarne il cuore concettuale. Non è per sadismo che i fisici scrivono le loro teorie in matematichese e non in italiano, inglese, arabo, suaili o cinese mandarino. La ragione è molto profonda e ha a che fare con la maniera in cui paiono essere organizzate le faccende del mondo, in cui paiono funzionare i meccanismi che danno origine a tutta la complessità che ci circonda. In qualche modo la matematica è il linguaggio più semplice e naturale a nostra disposizione per descrivere i processi fondamentali della natura. Questo è un fatto misterioso, affascinante, a cui non siamo davvero in grado di dare un senso. Wigner si riferiva a tutto ciò come all'irragionevole efficacia della matematica nelle scienze naturali. In soldoni, parafrasando un po' il suo discorso, diceva che non siamo capaci né ci meritiamo di comprendere la ragione per cui la matematica sia così potente nel descrivere la natura. Dopotutto si tratta di niente più che di un linguaggio molto rigoroso sviluppato da dei cervelletti di scimmia o scoperto da dei cervelletti di scimmia sul pianeta Terra. Accettiamo anche platonici su questo canale e per certi versi sono un platonico anch'io, quindi va benissimo se preferite usare scoperta e non inventata, insomma non voglio entrare nella questione. Il punto è che quando io mi trovo a voler raccontare la fisica, tipicamente prendo quasi tutta la matematica e la butto nel cestino, perché non ha senso raccontare la fisica solo a chi abbia già un po' di familiarità con spazi di Hilbert, varietà differenziali, topologia algebrica, fasci, connessioni, blow-up di punti, fibrati e tutta questa roba qui. Mi parlerei allo specchio, parlerei solo con dei colleghi o dei matematici che non hanno troppo bisogno di sentirsi raccontare le meraviglie della gravità quantistica, dei campi, delle particelle e dei buchi neri, quindi è necessario rinunciare alla struttura della fisica quando la si vuole raccontare al mondo. Ma tradurla letteralmente in italiano è una cosa che non posso fare. Sarebbe come prendere la divina commedia e tradurla letteralmente in codice Morse. Sì, va bene, in qualche modo il messaggio c'è ancora, l'informazione si conserva, ma è chiaro che il codice Morse non sia il linguaggio naturale per raccontare la divina commedia, quindi bisogna fare dell'altro un passo in più, bisogna costruire delle metafore, delle analogie, delle similitudini, dei ponti concettuali. Il problema è che questa roba qua non è il lavoro di un fisico, non è il lavoro di qualcuno che si sia occupato per tanti anni solo e soltanto di fisica. Certo, un fisico magari può essere un buon insegnante, ma anche in quel caso la sua audience è diversa, il suo pubblico è diverso e non è tutto il mondo. Bisogna trovare qualcuno capace di formulare delle metafore. Perché il rischio, il rischio, se un fisico si trova da solo a voler raccontare la fisica al mondo e non ha mai fatto esperienza di arattigianato di metafore, è che caschi nel, dicevo, il rischio è che caschi in quel mare, in quella sacca, in quella piscina di vecchie metafore ammuffite, stantie e piene di ragnatele che propiniamo a chi ci ascolta da cent'anni. E badate bene, si tratta di metafore che non funzionavano nemmeno nel 1922 e figurarsi se possano funzionare nel 2022. Il gatto di Schrödinger è il peggior modo per raccontare la meccanica quantistica. L'imbuto, quella storia dell'imbuto, è il peggior modo, per se non l'avete mai sentita meglio, per raccontare la relatività generale. Perché perdi più tempo a spiegare perché l'analogia non funzioni che a raccontare la relatività generale in quanto tale, che a usare l'analogia. E quindi è meglio saltarla a pie pari e raccontare le cose direttamente. Ma c'è un'alternativa, appunto. Si possono costruire delle nuove metafore, ma c'è bisogno dell'aiuto di qualcuno, l'aiuto di un professionista, l'aiuto di un artigiano delle metafore, l'aiuto di un supereroe. E capirete bene che quando il caro amico Roberto Mercadini, persona straordinaria, se non lo conoscete, ne dubito, andatelo a cercare, vi lascio pure il link al suo canale in descrizione, attore, narratore, scrittore, uomo dal cuore immenso. Lui e sua moglie mi hanno ospitato a casa tantissime volte, sono stati di supporto, d'appoggio, mi hanno insegnato un sacco di cose, insomma persone splendide e Roberto davvero è stato una delle persone con cui mi è più piaciuto chiacchierare, discutere, confrontarmi negli ultimi anni, quindi davvero se non lo conoscete andatelo a cercare. Ma dicevo, potete solo immaginare come io mi sia sentito quando Roberto ha bussato la mia porta virtualmente e mi ha proposto di provare a costruire insieme delle nuove metafore per spiegare la fisica. Sono saltato dalla sedia, ero la persona più felice del mondo, un uomo di cui ostima, un uomo, un amico, un uomo capace di costruire metafore, ma che al contempo aveva le conoscenze, ah, le conoscenze tecniche necessarie a entrare nella fisica, perché il suo percorso di studi è stato un percorso di studi da ingegnere, mi propone di riscrivere le metafore con cui scriviamo la fisica, con cui raccontiamo, perdon, la fisica. E allora ci siamo messi sotto. Io ho iniziato a raccontargli la fisica e lui l'ha capita, l'ha capita fino a uno stadio veramente avanzato, in cui era capace di fare addirittura i conti in relatività speciale, in relatività generale, teoria di campo e cose di questo tipo. E poi, una volta che lui aveva capito gli argomenti, mi proponeva metafore. Io, da bacchettone quale sono? Lui ha avuto molta pazienza, le scalpellavo lì dove avevano la necessità di essere scalpellate, dove rischiavano di essere un po' fuorvianti. E così, in questo dialogo, in questo uno contro uno, in questo far cozzare le nostre teste attorno a delle metafore, abbiamo prodotto dodici pianeti. In che senso? Nel senso che ci siamo immaginati dodici pianeti, uno per ognuno dei dodici concetti della fisica che ci si è messi in testa di raccontare. La relatività speciale, il concetto di campo, la meccanica quantistica, la teoria quantistica dei campi, la relatività generale, i buchi neri, il concetto di teoria in un senso più generale, le simmetrie e le leggi di conservazione, la rinormalizzazione, il problema dell'informazione e dell'evaporazione dei buchi neri, l'entropia dei buchi neri e la ricerca di una teoria di gravità quantistica. Aperta tonda, non in questo ordine, le ho un po' mescolate e chiusa. Tonda. E dopo aver costruito dodici pianeti metaforici con abitanti misteriosi, bizzarri, che ci hanno permesso di costruire delle narrazioni, dei buoni racconti per spiegare i concetti della fisica, abbiamo preso tre astronauti, Einstein, Eraclito e Newton, con i loro caratteri, le loro caratteristiche psicologiche, le abbiamo messi su tre navicelle e le abbiamo fatti viaggiare per lo spazio. E così Einstein, Eraclito e Newton hanno scoperto la relatività speciale sul pianeta Terra. E poi sono andati sul pianeta Linneo, dove hanno capito cosa sia il concetto di campo confrontandosi con gli abitanti del pianeta Linneo. E poi sul pianeta Wittgenstein, dove hanno imparato a capire, a mettersi via le stranezze della meccanica quantistica. E poi sul pianeta Dante, e così via, e così via, fino al punto... non ve lo dico, non vi dico fino a che punto si sono spinti, perché voglio che lo scopriate da soli. E potete farlo su Audible. Su Audible è uscito il nostro podcast Il Giro della Fisica in 12 mondi, in cui raccontiamo, puntata per puntata, questo viaggio dei nostri astronauti non solo in questi bizzarrissimi pianeti immaginari, ma anche tra i concetti della fisica moderna. Abbiamo cercato di mettere da parte le solite metafore che abbiamo tutti sentito un milione di volte, abbiamo cercato di produrne di nuove e di concentrarci anche su degli argomenti che vengono in genere snobbati dalla divulgazione. Un esempio è la rinormalizzazione, la necessità in qualche modo di modificare le nostre teorie di campo quando cambiamo scala di energia, ma non sarò troppo tecnico oggi. Se volete ascoltarmi e se volete ascoltarmi chiacchierare con Roberto, se volete ascoltare con me i suoi racconti e poi con lui le mie spiegazioni fisiche un pochetto più tecniche, ci vediamo su Audible. È molto importante che ci facciate sapere cosa ne pensate, perché questo è un progetto, francamente, per quanto mi riguarda, è il più bel progetto a cui abbia partecipato da quando sono qui. È una roba fuori scala. Per me, insomma, Roberto è stato una gran guida, nel senso che lui ha molta più esperienza di me, quindi mi ha insegnato tante, tante, tantissime cose. Anche solo per questo, anche se il podcast non avesse mai visto la luce, gli sarei infinitamente grato. Ma dicevo, è molto importante per noi sapere cosa ne pensiate, ovviamente. Ditemelo qua, ditemelo sul gruppo Telegram di Spazi Attorcigliati, ditecelo su Audible con una recensione, fate quello che volete, ma andate lì e ascoltatevi il giro della fisica in 12 mondi. Scommetto che ci vedremo fra i meandri del cosmo. Ed ora andate, crononauti, e ricordate che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa. A presto!